e che vogliono escludere a priori, che bisogna conoscere delle informazioni, la maggior parte delle persone che io ho seguito dopo le aggressioni di tutte le razze, ecco perché è un'altra bestialità che non deve passare, che ci sono certe razze molto pericolose e altre che puoi star tranquillo perché sono proprio i cani che hanno selezionato la compagnia, sono proprio i cani selezionati per i bambini, quelli e i bambini non faranno mai niente, infatti un po' di anni fa una mia cliente qua del nord che essendo comandante dei vigili urbani era anche la responsabile di un canile, mi fece andare per visitare il loro canile e ne avevano due o tre che erano morsicatori seriali dove sulla porta c'era scritto non aprite questa porta, sembra un po' il film, fate attenzione perché i cani mordevano direttamente in faccia e siccome io non faccio queste scorrettezze perché credo in una cinofilia sana, non pretestuosa, fatta di concorrenze fra allevatori eccetera, non vi dico le razze assolutamente, ma vi posso garantire che i più mordaci erano questi cani che vengono pubblicizzati come cani per le famiglie e le famiglie li crescono e dicono basta che il cane capisci che li vuoi bene, che ti ama, poi lui è un amante dell'uomo, ti ama in modo incondizionato, è molto meglio degli uomini perché loro ti danno solo e non ti chiedono mai e però poi adesso bisognerebbe riuscire a fare, combaciare queste affermazioni che con tanta sicurezza tanti fanno e normalmente si incazzano sempre quando io dico non è proprio così, bisogna capire un po', magari studiare un po' di cinofilia, bisognerebbe far combaciare questi angeli a quattro zampe con 70.000 aggressioni, intanto se sono angeli a quattro zampe i cani dovrebbero esservi tutti, io non credo che ci siano angeli di una razza e angeli di un'altra, pensare che 70.000 persone abbiano fatto oggi 2024 di tutto per far aggredire i propri figli, i propri familiari, mi sembra una cosa un po' esagerata, ma io vi posso garantire che le persone, oggi togliendo casi particolari, trattano i loro cani proprio come i loro figli e questo è uno dei più grossi problemi. I cani che noi li vogliamo bene o no è uno scrupolo nostro, ma li interessa fino a un certo punto. I cani che noi li amiamo meno, ammesso che capiscano questo approccio, l'interesse fino a un certo punto. I cani cosa interessa veramente tanto è fare i cani, essere capiti in qualità di cani, avere non ciò che noi come esseri umani crediamo che loro abbiano bisogno perché ragioniamo come umani. Avere ciò che loro come cani, che ragionano come cani, hanno bisogno per vivere bene da cani. Allora, la cosa che mi ha impressionato in più di questo dato è che mi ha spinto a fare questo videocorso che penso che l'avete già visto pubblicizzato, reclamizzato, tra l'altro fino a lunedì 28, proprio perché è un videocorso che ho fatto col cuore e lo do a metà prezzo, il costo medio dei miei videocorsi ormai lo conoscono tutti. E ne conoscono anche il valore delle informazioni, perché ci sono delle informazioni che non hanno prezzo, lo dico sempre. Pensate, se non vi avessero dato l'informazione esatta di che carburante doveste mettere nella vostra automobile. Se noi andiamo a vedere quel cartellino lì che c'è scritto mettigli il diesel, mettigli la benzina, quanto può costare? Forse pochi centesimi di euro, ma immaginatevi quanto vale perché se voi doveste cambiare benzina non riuscirete ad andare avanti. Così come altre informazioni che se non vi dicessero che dovete cambiare l'olio, quel cartellino dove c'è scritto ogni quanto lo dovete cambiare, è solo un'informazione. Cosa costa meno di quattro centesimi magari il cartellino? Cosa costa un foglio del libretto delle istruzioni? Ma immaginatevi voi, se per caso, voi.